Ciao a tutti homebrewers e appassionati. So che lo aspettavate da un po' ed è arrivato il momento finalmente di parlare di un argomento sempre caldo in homebrewing, cioè quello del controllo del pH. Devo ammettere che pur avendo letto e studiato molto al riguardo rimangono sempre dei dubbi e dei limiti nella sua comprensione totale. E rimane anche la domanda finale a cui si cerca di dare una risposta. Cioè, quanto il controllo del pH può influenzare la qualità e il carattere della birra finita? Lo scoprirete se seguirete il video. Il controllo del pH in un brewing è una tematica importante. Nella pratica il grain è indispensabile. Non dovremo fare a meno di verificare, correggere e monitorare il pH durante le varie fasi di produzione, perché da esso dipendono vari processi che portano ad un prodotto buono e stabile. È interessante considerare che abbiamo fatto birra da millenni, ma la misura del pH in birificazione risale solo al 1924, quindi è qualcosa di molto recente nella storia della birra. Con pH si definisce la concentrazione di ioni idrogeno in una soluzione. È la misura di un equilibrio chimico. La scala del pH va da 1 a 14, con al centro il valore 7 che è il valore neutro. Al di sotto di 7 siamo nel range dell'acido e al di sopra siamo nel range del basico. È molto importante tenere presente che la scala del pH è una scala logaritmica, quindi la differenza tra il valore 5 e il valore 6 ad esempio non è di un solo punto, ma realmente c'è una differenza di 10 unità di grandezze. Quindi un pH 6 è 10 volte più alto di un pH 5. Questo ci fa capire quanto è importante una certa precisione nella sua misura e nella sua comprensione. Il pH in birificazione è la misura di un equilibrio chimico. Partendo dall'acqua, che rappresenta la maggior percentuale della nostra soluzione, dobbiamo considerare che possiamo avere lo stesso pH su due acque diverse in concentrazione di minerali. E anche se il pH è lo stesso, queste acque si comporteranno differentemente nel processo di birificazione. Le acque ricche di bicarbonati, infatti, subiscono meno facilmente le variazioni di pH per effetto dei malti o di acidi da noi aggiunti, perché hanno un maggior potere tampone, quindi sono più stabili. Acque più dolce e leggere, invece, favoriscono più facilmente la discesa del pH. Per questo esistono storicamente delle acque ideali per produrre birre che sono state riconosciute come caratteristiche di un luogo e di uno stile ben preciso. Oggi in homebrewing si tendono a preferire acque dolci, in particolare con pochissimi bicarbonati, e quando necessario si tende ad aggiungere minerali utili come il calcio o giocare sulla concentrazione di cloruri e solfuri per direzionare gli aromi presenti nella birra che vogliamo nascondere o far emergere. Senza approfondire troppo la composizione dell'acqua, comunque, è di grande aiuto lavorare con acque dolci, quindi con pochi minerali. Quando aggiungiamo i grani all'acqua, in ammostamento, succedono una serie di cambiamenti. Il calcio presente nell'acqua, interagendo con gli ioni fosfato presenti nei malti, porterà alla liberazione di ioni idrogeno. I malti hanno quindi una capacità di far scendere naturalmente il pH dell'acqua, purché ci sia una sufficiente quantità di calcio. Per questo si consiglia di utilizzare acque con almeno 50 parti per milioni di questo elemento. I malti speciali, in particolare quelli più scuri, possono far scendere il pH davvero tanto. Per questo motivo, in birre molto scure, bisognerebbe evitare acqua troppo leggera e dolci e salire un po' di bicarbonati, senza eccedere. L'equilibrio chimico varia con la temperatura, perché all'aumentare della temperatura, le molecole si muovono più velocemente e anche il pH cambia. Il pH in ammostamento è inferiore rispetto a quello misurato sullo stesso campione a temperatura ambiente di 0.3 punti. La misurazione del pH tuttavia deve avvenire a temperatura ambiente, perché è quella che è stata presa come standard per tarare il pH nei processi di birificazione. Per misurare il pH abbiamo bisogno di un pH-metro. Sono da scartare le cartine al tornasole, che non ci restituiscono un valore univoco, perché la lettura è soggettiva e soprattutto non ci permettono di leggere bene un valore all'interno di un range più ristretto. Molti pH-metri hanno anche la compensazione automatica della temperatura. Sfortunatamente questa funzione non è sempre così pratica e funzionale in un brewing, per una serie di motivi. Quando calibriamo il pH-metro con le soluzioni tampone a pH 4 e 7, calibriamo il sensore a quella temperatura. Ad una temperatura differente, l'elettrodo avrà una risposta differente a causa della variazione di temperatura e tramite un calcolo matematico ci restituirà un valore corretto secondo la sua previsione. Ma il pH del mosto non è lo stesso a diverse temperature, quindi la correzione può essere utile su piccole variazioni di temperatura, ma certamente non ci può aiutare a leggere il pH di un campione che si trova sopra i 50 gradi. Inoltre alte temperature, come quelle di ammostamento, possono danneggiare l'elettrodo, quindi se abbiamo calibrato a 20 gradi, dobbiamo fare in modo di raffreddare il campione il più possibile intorno a quella temperatura. Ci sono anche delle tabelle correttive in base alla temperatura del campione che ci possono già dare un'idea di quando può cambiare. Le temperature di mesh stanno sopra i 63 gradi circa, ma qual è il pH ottimale? Teniamo presente che l'orzo è un prodotto agricolo, esistono differenti varietà coltivate in nazioni e continenti diversi, colture primaverili, autunnali. Gli enzimi implicati nella saccarificazione sono molti. Le amilasi, alfa, beta, a loro volta hanno diversi isomeri ed ognuno di loro ha un pH ideale che varia anche in base al tipo di orzo, quindi bisognerebbe isolarli singolarmente e quantificare qual è il pH ideale. Quindi quando parliamo di pH ideale, realmente parliamo di un compromesso che si avvicina il più possibile all'attività degli enzimi interessati e di quelli che vogliamo far lavorare principalmente. Bisogna ragionare su gruppi di enzimi. Bisogna parlare quindi non di pH ottimale, ma di range ottimale. Il range ottimale in ammostamento si stima che oscilli tra 5.2 e 5.6. Le beta-milasi lavorano meglio nella parte bassa del range, le alfa-milasi in quello alto. Il pH in verificazione varia durante le fasi di mesh, bollitura e fermentazione. Durante l'ammostamento il pH continua a scendere perché durante le reazioni enzimatiche gli onidrogeno vengono liberati. Prima di passare alla bollitura facciamo un accenno anche allo sparge. Se previsto questo passaggio prevede il risciacquo dei grani con altra acqua, che in genere è la stessa che usiamo in ammostamento, e dovrebbe essere portata a temperatura di mesh out, non oltre gli 80 gradi, per non estrarre tannini dalle glumelle, cioè le bucce dei grani. Premesso che il risciacquo si può effettuare anche con acqua a temperatura ambiente, sarà poco meno efficiente ma non cambia la birra. Più che la temperatura in realtà dobbiamo guardare sempre il pH dell'acqua di sparge, perché sopra il 6 c'è realmente il rischio che si estraggano i tannini, è molto più rilevante il pH che la temperatura in questo caso. Quindi sarebbe bene portare il pH dell'acqua di sparge allo stesso valore di quello di mesh, o se vogliamo anche qualche punto più in basso, per favorire poi la discesa che vogliamo in bollitura. Durante la bollitura c'è evaporazione di acqua, hot break e molti altri processi chimici. Come risultato il pH scende di altri 3 decimi e si avvicinerà quindi a 5. Un pH alto in bollitura favorisce una maggiore esomerizzazione degli alfacidi dei luppoli, quindi una maggiore estrazione dell'amaro, ma non è detto che sia sempre una cosa piacevole, dipende dal luppolo e dal carattere che vogliamo ottenere. Un pH più basso invece favorisce una maggiore coagulazione delle proteine, aiuta quindi il mosto a essere più limpido e pulito a fine bollitura. In fermentazione il lievito prende amminoacidi, nutrienti e libera altri acidi, quindi libera ioni idrogeno che in soluzione abbassano ulteriormente il pH di circa 5 decimi, fino ad arrivare a un range tra 4 e 4 e 6 per molti stili di birra, sotto i 4 e fino a 3 per le birre acide. Un ulteriore tocco lo dà infine alla carbonazione. Più alto il suo valore, più acido carbonico ci sarà in soluzione, quindi avremo un ulteriore abbassamento del pH. Sappiamo che il valore del pH sulla birra finita può enfatizzare maggiormente la percezione dell'amaro o della dolcezza. In una Munich Ellis per esempio, un pH più basso rende più brillante il carattere maltato e aiuta a separare meglio i malti dai luppoli. Nelle birre più scure e complesse come Porter, Imperial Stout, Dunkle, un pH leggermente più alto aiuta ad aprire gli aromi dei malti speciali e permette di distinguere meglio i malti utilizzati come malti caramello, roasted, chocolate e rende la birra quindi più complessa. Un pH basso invece in una birra scura rende tutti gli aromi tostati più unificati tra loro e ci restituisce una percezione singola del carattere tostato. Non c'è quindi un pH giusto o sbagliato, ma dipende dal carattere che vogliamo far emergere. pH più alto se vogliamo rendere la birra più complessa e gli aromi più profondi, pH più basso se vogliamo un profilo più concentrato e ristretto. A prescindere dal carattere che vogliamo dare alla nostra birra un pH sotto i 4.6 in ogni caso è auspicabile per mantenere la birra stabile e sicura dalle infezioni. Sotto questa soglia infatti, in aggiunta ad altri importanti fattori, siamo in grado di inibire la crescita di batteri e microrganismi desiderati. La domanda finale però è, tutto questo controllo quanto influisce realmente in modo percepibile sulla birra finita? Tra il fare una birra scegliendo magari solo l'acqua più adatta e fare un ammostamento, una bollitura e una fermentazione senza controllo e senza correzioni, rispetto a farne una correggente controllando il pH in ogni fase, quanto cambia realmente la birra? A questa domanda ha dato una risposta John J. Palmer, noto brewer americano, autore del famoso libro How to Brew e di altri testi. Secondo John, un attento controllo del pH può influenzare la birra, in positivo o in negativo per un valore da lui stimato del 10%, che secondo lui è un valore spesso distinguibile all'assaggio e rilevante di per sé, seppur molto piccolo. Tra le priorità per produrre un'ottima birra secondo Palmer, al primo posto c'è la sanitizzazione, al secondo la gestione del lievito, la gestione della temperatura di fermentazione, la ricetta, le materie prime, la correzione dell'acqua, ed infine la correzione del pH, che è il tocco finale per passare da una buona ad una grande birra o da una buona ad una mediocre. La risposta finale alla domanda che ci eravamo poste all'inizio ce l'ha data John Palmer. È chiaro che si tratta di una sua stima soggettiva, non rilevabile realmente, ma pur indicativa. Ammetto che il 10% mi è sembrato anche a me davvero poco e pensavo che il controllo del pH giocasse un ruolo più importante. Ma in fin dei conti, pensandoci bene, per fare una buona birra ci sono dei passaggi che certamente hanno un peso maggiore, come la bontà della ricetta, delle materie prime, il controllo e la gestione del lievito e della fermentazione. Tanti piccoli passaggi che senza un attento controllo difficilmente ci permetterebbero di fare una buona birra. E anche la qualità dei malti presenti oggi in commercio ci permette, volendo lavorare senza controlli, di poter fare anche una buona birra. Ma come dice John, quel tocco finale, seppur piccolo, può fare poi la differenza nel trasformare una birra buona in una ottima o in una mediocre. Spero vi sia piaciuto l'approfondimento sul pH e non brewing. Se vi sono rimasti dubbi o domande o c'è qualcosa di poco chiaro, scrivete sotto nei commenti. Se volete supportarmi lasciate un like nel video e iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, in modo da rimanere aggiornati sui prossimi contenuti. Ci vediamo al prossimo video! iscriviti al canale! Grazie a tutti.